Uomini e donne Gossip News Tutti ricorderanno molto bene per la sua partecipazione di qualche anno fa nella trasmissione di Maria De Filippi. Valentina, infatti, è stata una delle troniste più amate dal pubblico, che segue il dating show di Canale 5 e in queste ore si sta parlando di lei soprattutto per una serie di foto, che hanno fatto scalpore. La verità di Valentina Dallari di Uomini e Donne dopo le accuse shock. Le Gossip News, infatti, rivelano che la bella Valentina Dallari in queste ore ha postato delle foto shock su Instagram, dove si nota la sua eccessiva magrezza, che ha ovviamente scatenato delle accese polemiche e in moltissimi si sono chiesti che cosa stesse succedendo. Come accade spesso per i personaggi pubblici c'è anche chi ha sparato delle sentenze senza neppure conoscere la verità dei fatti e in molti hanno scritto dei messaggi offensibili nei confronti dell'extrolista di Uomini e Donne, credendo che la sua magrezza fosse dovuta ad una questione inerente alla linea da mantenere per il suo lavoro. Ecco allora che a quel punto Valentina Dallari ha chiesto un po' di rispetto e ha precisato, attraverso un post pubblicato sempre su Instagram, che la situazione era decisamente più grave di quanto si potesse immaginare e quindi per questo ha chiesto rispetto. A distanza di qualche ora dalla pubblicazione di quel post molto forte di Valentina, ecco che la Dallari ha rilasciato anche la sua prima intervista al sito web Gossip Fan Paget, dove per la prima volta ha parlato apertamente del dramma, che sta vivendo. La confessione di Valentina, ecco perché sono così macra. Sì, perché Valentina ha avuto il coraggio di confessare pubblicamente che questo è uno dei periodi più difficili della sua vita perché sta soffrendo di disturbi alimentari e ha aggiunto che a breve entrerà all'interno di una struttura specializzata per farsi curare. Soffro di disturbi alimentari e sto cercando di risolversi attraverso una cura, che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto, movigliono bene e vogliono vedermi felice. Mi prenderò un po' di tempo per te e proverò a risolvere il mio problema, ha dichiarato Valentina nella sua prima intervista dopo le accuse in shock, che le sono state mosse sui social. Forza Valentina, facciamo tutti il tifo per te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.